Signori, il massimo silenzio, perché lei deve riuscire ad addormentare con una tecnica che solo lei conosce, tutti questi animali. Please, cominciamo. Come vedete, è molto agile anche. La gallina. Io c'ho un gallo, se si potesse tirare il collo al gallo. T'aiuto io. Occhio alla gallina, pronta? Grazie, grazie. Vada. Però ci siamo, ci siamo, guarda. Sì. 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 Sei già. Sì. 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 Sì già, sì già, sì già, sì già. Il drago, attenzione. Sì già, lei. Sì, sì già. Sì, sì già. Sì già. Sì già. Il coniglio. Questo dorme già da solo. Grazie. Sì già. 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 Recupera la rana. Sì già. C'è la rana qua, recupera la rana. Lo sei tu che fai casino. Coniglio. Qui l'unica che dorme è la gallina. Ciao. Le facciamo un applauso grande. Grande la nostra amica dalla Cina. Una capacità incredibile. speo anche DOUGLO. Sì. 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 Eee. Sì. Grazie a tutti.